Senatrice De Petris, nel suo intervento lei ha sottolineato come la pandemia abbia purtroppo peggiorato la disugualeanza sociale e ha anche aggiunto che se non si troveranno gli strumenti adatti non ci sarà una vera transizione ecologica e sarà un problema per tutti. Perché? Ma perché intanto i cambiamenti, le emergenze ambientali e le emergenze sociali, come vediamo a livello del nostro paese ma anche a livello planetario, viaggiano insieme, sono impressionanti come i dati diciamo in qualche modo coincidono e più c'è disuguaglianza, più c'è povertà nel mondo, più si accentuano anche i grandi problemi di emergenza ambientale. Con la pandemia tutti questi che sono problemi strutturali si sono assolutamente accentuati, non lo vediamo nel nostro paese, eppure abbiamo messo tante misure in campo proprio per intervenire, per mitigare la povertà, pensiamo anche al reddito delle cittadinanze, questo è tanto discusso ma in realtà questo è servito molto. Quindi se noi non capiamo che la transizione deve essere una transizione verde e giusta e quindi aiutando anche, superando le suguaglianze, noi non riusciremo ad andare avanti perché altrimenti c'è il rischio che poi la transizione ecologica ricada soltanto su chi già sta in difficoltà. Per questo bisogna lavorare insieme, così come avevamo impostato anche il lavoro sul PNRR, cioè molto sulla rivoluzione verde e insieme intervenire sulle questioni sociali, sulla questione sociale, sull'istruzione, sull'accesso ai diritti. Questo è assolutamente fondamentale e non è un caso che è la raccomandazione dell'Agenda 2030 anche dell'ONU sui cambiamenti climatici.